Il 2023 si è aperto con buone notizie per le scuole del Pescarese. L'amministrazione provinciale ha infatti reso noto che sono stati stanziati ulteriori 6 milioni e mezzo di euro per l'edilizia scolastica degli istituti del capoluogo e della provincia. Soddisfatto l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale. Notizia di qualche giorno fa ulteriori 25 milioni da parte del governo per l'edilizia scolastica. Sono molto felice come assessore delegato all'istruzione perché è fondamentale che i ragazzi possano studiare in ambienti sicuri. Stiamo cercando di dare un'accelerazione dopo il periodo Covid in cui i ragazzi hanno sofferto la DAD, la didattica a distanza, non solo a livello di formazione ma soprattutto a livello psicologico e quindi vogliamo rilanciare la scuola abruzzese sia facendoli stare come dicevo in edifici sicuri ma sia migliorando il percorso formativo. L'istruzione è di fondamentale importanza, la formazione, vogliamo che le nuove generazioni abbiano una capacità e una competenza affinché possano facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro in cui sono richiesti dei profili particolari. Io girando le aziende a volte molti monitori mi dicono che c'è necessità di occupazione ma mancano determinati profili e quindi è importante la formazione. C'è il nuovo FSE 2022-2027 che rappresenta una grossa sfida. Nello specifico a beneficiare dei fondi per nuove palestre, efficientamento energetico e antisismico sono il Tito Acerbo ed il Mantone di Pescara e il Liceo d'Ascanio di Montesilvano. Il giorno del mio insediamento mi sono prefissato una missione che era quella appunto di creare i presupposti per intercettare più fondi possibili anche grazie alle linee dettate dal PNRR in materia sia di viabilità che di edilizia scolastica. Nello specifico il Tito Acerbo vedrà la realizzazione di una palestra per un totale di 3 milioni e 600 mila euro. Il Liceo d'Ascanio di Montesilvano vedrà invece realizzate delle aree outdoor sempre da un punto di vista sportivo che si aggiungeranno alla palestra che si sta realizzando e che dovrebbe avere conclusione insomma dei lavori già nel prossimo mese di aprile. Invece per quello che riguarda il Mantone per 2 milioni e 2 ci saranno dei lavori che riguarderanno adeguamento sismico, efficientemente energetico ma anche antincendio. Grazie. 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 Grazie.